Wow, il mondo virtuale, pensere sempre connessi, la pubblicità, tutto questo ci sta uccidendo. Sappiamo tutto di tutti, ma lo sappiamo più niente di donne. Condivide? Condivide. Mammina, io e Marina abbiamo deciso di andare a convivere. Dimmi, di che cosa è paura? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga in... I carici sono i carici, preverandolo! Togliti da giacca. Hola! Elena, innamorata di te in quanto portatore di handicap. Sono Antonio Piras, dell'Antonio Piras Group, la prestigiosa azienda del quinto piano. Uno splendido buongiorno a tutti e che l'essere produttivo sia con tutti voi! E con tutti! E che ne sei chacca! Come andiamo! Ah